Credo sia importante andare verso una riqualificazione del Porto Vecchio perché altrimenti rischiamo di diventare un blocco di sviluppo. Siamo di fronte alla più grande area italiana in centro città sul mare con una riqualificazione che può veramente essere qualcosa di straordinario. Dispiace devo dire che anche su questo, che è un interesse di tutti, un interesse della città, ci sia una speculazione di parte. Sicuramente si può discutere, figuriamoci, ci si può confrontare, figuriamoci. Non a caso, se il Consiglio Comunale procederà a dichiarare l'interesse pubblico, se ne andrà verso una gara pubblica dove chi farà la migliore offerta vincere a quella gara. Però voler bloccare tutto, semplicemente perché qualcuno pensa di candidarsi a sindaco, penso sia una responsabilità enorme verso i triestini e verso tutti i cittadini del Frivenza Giulia.